In ossola la neve abbondante ha provocato la caduta di molte piante e linee elettriche, 5.000 alle utenze rimaste senza corrente. Consiglio comunale aperto domani a Verbania per parlare di sanità diretta di Vici Azzurra TV a partire dalle 15.00. I proprietari dell'ex colonia Motta dovranno provvedere a mettere in sicurezza tutta l'area, ordinanza del sindaco Marchionini. Concerti, mostre, eventi nel Cusio per festeggiare i 40 anni di istituzione del servizio disabili del CIS. Fabio Volo era ieri ad Arona per presentare il suo ultimo libro dal titolo Gran Voglia di Vivere. L'ossolana Giovanna Selva, settima ai mondiali di corsa in montagna in Argentina, vince l'oro nella gara a squadra. Ben ritrovati con l'informazione di Vici A Notizie che si apre con il maltempo perché la neve è arrivata per la gioia degli appassionati dello sci e non solo ma ha causato anche notevoli disagi sia per quanto concerne la corrente elettrica, ci sono state diverse interruzioni in diverse vallate dell'ossola e poi anche disagi a livello di viabilità. Lo spettacolo naturalmente era tanto. Vediamo. Un metro di neve circa a Formazza, Macugnaga, San Domenico, poco meno in Vigezzo, 10 centimetri a domo d'ossola e nel fondo valle. L'ossola alta questa mattina si è risvegliata a volta in un candido mantello bianco. Uno spettacolo per gli occhi ma non per chi a causa della neve è rimasto senza luce. È successo per la pesantezza della neve che ha provocato la caduta di diverse piante su linee elettriche e strade. Nella mattinata e nel distribuzione ha parlato di 5.000 utenze rimaste al buio. Per tutta la giornata i tecnici della società elettrica hanno lavorato per ripristinare la corrente e fornire generatori in grado di riportare la luce in diversi piccoli centri delle vallate ossolane. Accraveggia e volontari del soccorso alpino della valle Vigezzo sono dovuti intervenire per recuperare personale della società La Piana rimasto bloccato sulla seggiovia a causa dell'interruzione della corrente. Anche la tratta italiana della ferrovia Vigezzina oggi ha subito uno stop forzato a causa della neve. La mancanza di energia elettrica ha costretto il sindaco di Domodostro a firmare un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura odierna della scuola primaria di Calice. I presidenti di Uncem, Piemonte e Nazionale, Riba e Bussone hanno inviato una lettera ai vertici di Enel Eterna, ma anche ai prefetti piemontesi, al presidente della regione Cirio, ai ministri Patuanelli e Boccia, sottolineando la necessità di avviare un lavoro con le imprese, gli antilocali, la regione e le prefetture relativo alla gestione delle fasce di rispetto lungo le linee elettriche delle zone montane. Questo per evitare interruzioni e distacchi improvvisi. Sarà necessario chiarire nei prossimi giorni, aggiungono i due, se questa è la vera causa e se ci sono responsabilità. E non è andata meglio, neppure sulle strade dell'Ossola. Diversi automobilisti hanno lamentato disagi dovuti alle piante cariche di neve che hanno parzialmente ostruito le carreggiate. È successo lungo la superstrada dell'Ossola e poi in Val Bonianco per tutta la notte, poi ancora questa mattina, volontari del soccorso alpino con squadre di vigili del fuoco e bi hanno ripulito la provinciale invasa da decine di piante. Stessa situazione anche nelle frazioni alte di Rai in Valle Vigezzo e a Villette. L'unica nota positiva è la gioia degli amanti dello sci, tempo permettendo alcune stazioni del comprensorio di neve azzurro potrebbero essere pronte già per fine mese. Intanto nella piana di Riale, ieri e oggi, si è allenata la nazionale di fondo svizzera. Domani sarà la volta di quella italiana, che rimarrà per tutta la settimana. Domenica 24 novembre arriverà quella francese. Sebastien, qu'est-ce che tu pensi della piste del Rial? Ah, è bene. È il sapato. Perfetto. Molto bene. E noi invece rientriamo parlando di cronaca perché è entrato nel negozio della prenatale di Intra e ha rubato un iPhone, una commessa e un altro, il portafogli che conteneva 95 euro in contanti, una bancomat e una carta di credito prepagata. Si tratta di un 55enne di cannobio recidivo e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. L'uomo, dopo aver commesso il furto, è andato all'Euronics di Pallanza dove ha cercato di acquistare un altro iPhone dal valore di circa 800 euro pagandolo con la carta prepagata. Gli è scattato l'allarme, sono subito intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. La PM Rossi ha chiesto la custodia cautelare in carcere tenendo conto del fatto che l'uomo abbia commesso il fatto in violazione della sorveglianza speciale. Il giudice ha convalidato l'arresto e lo ha mandato ai domiciliari. E ora siamo alla sanità perché domani a Verbania, lo sapete, ve l'abbiamo già detto diverse volte, si riunisce il Consiglio Comunale Aperto, il Presidente dell'Assemblea Verbanese ha convocato i colleghi della Verbano, i cittadini, ma ha chiesto anche la partecipazione degli amministratori dell'accuso e anche dell'Ossola. La nostra emittente vi proporrà in diretta l'evento a partire dalle 15. Domani sarà il giorno del Consiglio Comunale Aperto di Verbania e Sindaco Silvia Marchionini, il Presidente del Consiglio Comunale, Gian Domenico Albertella, chiamano tutti a raccolta per dire no al progetto di riorganizzazione che ha presentato il Presidente della Regione, Alberto Cirio, che vedrebbe la realizzazione del nuovo ospedale provinciale a Domodossola. L'appuntamento alle 15 al Palazzetto dello Sport di Intra per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare. Sono invitati e hanno confermato la presenza tutti i sindaci del Verbania, i sindacati, l'associazione di categoria, il mondo del volontariato e i semplici cittadini. Non sono invece arrivate risposte ufficiali dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, invitato insieme all'assessore Luigi Cardi. Era stata anche offerta a loro la possibilità di proporre altre date alternative al 16 novembre, ma non ci sono state indicazioni. Domani la nostra emittente trasmetterà in diretta il Consiglio Comunale, sia sul nostro canale televisivo che in streaming su Facebook e sul nostro sito internet. E ripetiamo a Verbania per darvi conto dell'esito del sopralluogo effettuato dal geologo nell'area della Colonia Motta, nei pressi della zona dove c'è stato lo smuttamento pochi giorni fa. I proprietari dell'ex Colonia Motta dovranno provvedere a mettere in sicurezza tutta l'area. Il sindaco Silvio Marchionini, dopo i sopralluoghi e gli accertamenti degli scorsi giorni, ha messo un'ordinanza apposita. Sabato scorso una frana si è staccata dal versante ed è finita sulla statale 34 a fondo toce. Anche se l'intervento è stato pronto e rapido e si concluderà la settimana prossima con la posa delle reti paramassi, si sono comunque creati disagi. Dagli approfondimenti fatti sull'area sarebbe emerso che la vegetazione cresce in colta, l'area non viene pulita e l'acqua fluisce senza controllo. Per questo motivo il Comune ha imposto un intervento. Se non verrà rispettata l'ordinanza ci saranno delle sanzioni. La colonia Motta, realizzata negli anni 20, fu un luogo di vacanza per generazioni di figli di dipendenti della Edison. Fu poi al centro di scandali politici e finanziari. Avrebbe dovuto rilanciarla l'imprenditore lombardo Marcello Gabbana, che però nel novembre del 2009, dopo un sopralluogo proprio a Verbagna, precipitò con il suo elicottero morendo insieme al pilota nel lago di Varese. Analoga ordinanza sarà messa anche nei confronti dei proprietari di Villa Possa, altra dimora storica che versa in stato di abbandono da tempo. È stato attivo nei giorni della polemica. Stiamo parlando del comitato antifascista dell'Accusio. I fatti sono l'intitolazione della piazzale del liceo al generale Diaz. Lo sapete, non si farà più, ma il comitato torna sull'argomento. Il comitato antifascista di Omenia prende posizione dopo il via libera da parte della giunta Marchioni sull'intitolazione del piazzale antistante liceo Gobetti. Ad Alda Merini, riteniamo che la scelta ponderata dei ragazzi che sapevamo da giorni stesse maturando all'interno della scuola e che prima di essere avanzata giustamente aveva bisogno di una verifica sullo gradimento proprio tra di loro, sia stata intelligente, lungimirante, rispettosa dell'uomo a cui è intitolata la loro scuola. Grazie quindi agli studenti e agli insegnanti e alla dirigente scolastica del liceo Gobetti. Il tentativo invece di appropriarsi di una proposta avanzata dalla scuola cercando di farla passare come proposta propria da parte di esponenti di una certa parte politica ci pare, continua il comitato antifascista, un'operazione propagandistica di cattivo gusto che gli studenti e tutti gli ominesi sapranno giudicare a tempo debito. Inoltre riguardo alla dichiarazione del sindaco di voler dal corso comunque all'intitolazione di un'altra piazza generale Diaz, ribadiamo la nostra già espressa contrarietà e totale opposizione. Non ci sembra per nessun motivo giustificabile rendere oggi un tale tributo ad un personaggio che va valutato per tutte le sue scelte non soltanto per i meriti acquisiti nel corso dell'ultimo periodo della Grande Guerra ma anche per la sua scelta di sostenere il nascente fascismo e di essere ministro della guerra del primo governo mussoliniano. Anche la ventilata ipotesi di sostituire l'intitolazione attuale alla dirigente industriale aliata in un'area che lo ha visto operare con quella al generale Diaz ci sembra poi singolare e del tutto ingiustificata. La nuova sede della Polizia dell'Italia democratica si verrebbe a trovare sulla piazza intitolata al ministro che contribuì alla costituzione delle famigerate camicie nere. Tutto questo ci sembra in notevole contraddizione con i valori che hanno portato al conferimento alla nostra città della medaglia d'oro al merito civile per il contributo offerto alla lotta di liberazione dal nazifascismo come abbiamo già affermato in un precedente comunicato se l'intento fosse quello di ricordare il sacrificio dei militari italiani nella cosiddetta Grande Guerra in occasione del centenario da poco concluso come sembra asserire peraltro qualcuno tra i proponenti riteniamo che una più appropriata dedica di uno spazio pubblico sarebbe da attribuire ai soldati omenesi in particolare ai caduti del battaglione intra giovani figli di queste terre che specie nel primo anno del conflitto morirono a centinaia combattendo nelle battaglie dell'Isonzo del Monte Mero alla Mirzri ma come risulta del tutto evidente il vero intento non è questo drammaticamente conclude il comitato antifascisti questi sono i tempi che stiamo vivendo ed è importante pare essere la necessità di assecondare individui che vivono solo di rancori, ripicche, provocazioni invece che lavorare ed unire gli omenesi democratici nel nome dei veri valori della nostra Costituzione Rimaniamo omenia ma parliamo dei 40 anni del servizio disabili del CIS Perché è nato il CIS 40 anni fa? Quali sono le attività che è svolto e che svolge ancora oggi? Il CIS è nato per occuparsi per conto dei comuni di tutti gli aspetti che riguardano i servizi sociali i servizi alle persone i servizi alle persone che sono in difficoltà in particolare e tra questi i disabili sono le persone disabili le persone che hanno delle difficoltà di tipo fisico o psichico sono le persone che in particolare hanno bisogno di un aiuto per poter vivere una vita che sia il più possibile vicina a quelle che facciamo tutti noi Come funziona esattamente il CIS? Il CIS non è altro che l'insieme dei comuni che hanno deciso di costituire un ente che per conto loro si occupi di tutte queste situazioni che sono la disabilità, come dicevo la povertà, l'emarginazione, problemi femminili, problemi dei bambini Ma cosa sarebbe la nostra società nel nostro piccolo nel nostro territorio se non ci fosse il CIS? Il Comune di Omegna è certamente uno di quelli maggiormente impegnati a fianco del CIS e tantissimi di questi problemi vengono affrontati insieme Diciamo che il CIS è la forza di tutti noi messi insieme perché da soli potremmo fare ben poco viste le risorse piuttosto ridotte che abbiamo messi insieme invece possiamo ottenere molto ed è questo il motivo per cui come Comune tutte le volte che c'è possibile diamo il nostro sostegno al CIS sia dal punto di vista economico, là dove possiamo, extra rispetto a quelle che sono le quote che vengono date annualmente rispetto alla comunicazione, rispetto alla messa a disposizione di quello che può essere utile al CIS facciamo poco sperando di poter ottenere tanto e per ricordare questo quarantesimo vogliamo ancora ricordare scusate il gioco di parole concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche e anche convegni e incontri oltre a concorsi fotografiche e un torneo di baskin il primo appuntamento è per domenica 24 novembre con un concerto Nel Verbano invece è stata presentata un'iniziativa che mira a prevenire il disagio tra i giovani Viene riproposto con una rete di associazioni e di enti il progetto Lakely Young in che cosa consiste? Il progetto Lakely Young è la proposta per i giovani di Verbagna del territorio, del comune di Verbagna e del consorzio dei servizi sociali una proposta che mette al centro il loro protagonismo ma anche i loro problemi, i loro disagi Il consorzio dei servizi sociali investe in questo progetto? Sì, non è tanto importante quello che investiamo che è una cifra per noi importante è importante che noi li utilizziamo al meglio per un'azione di prevenzione rivolta ai giovani Noi siamo abituati che negli ultimi anni stiamo parlando solo di terza età quindi anziani ci stiamo concentrando su questo Credo che, è vero abbiamo un livello di denatalità molto alta che ci porta a dare delle priorità verso la terza età ma non dobbiamo abbandonare quello che è il problema dei giovani Il gruppo Abele è capofila di questo progetto voi svolgete un'azione non tanto sui figli ma sui genitori? Sì, proprio perché quando ci è stato richiesto appunto di fare questo progetto abbiamo detto i giovani comunque sono figli e quindi dietro ci sono sempre dei genitori e nelle situazioni in cui un figlio manifesta comunque un disagio una problematica diventa fondamentale come dire accogliere il genitore che poi si ritrova come dire a gestire a casa, a gestire situazioni e quindi diventa fondamentale come dire supportare il genitore perché è la risorsa prima di un figlio e quindi il nostro obiettivo è appunto sostenere i genitori teniamo in considerazione che non ci occupiamo solamente di situazioni in cui c'è una criticità conclamata ci occupiamo anche di situazioni come dire in cui il genitore si è trovato magari ad affrontare un'intossicazione alcolica di un figlio durante una festa il sabato sera scopre che il figlio inizia a utilizzare che non so cannabis e quindi magari ha delle domande ha delle richieste come faccio a gestire questo tipo di situazione come faccio a comunicare con mio figlio ad affrontare questo tipo di tematica e di conseguenza l'obiettivo è proprio di fare un'azione di sostegno e supporto I volontari AIB sono gli ospiti che questa settimana del salotto del nostro direttore l'appuntamento con il Sasso nello Stagno come sempre venerdì alle 21 torna in replica domenica alle 14 Questa settimana dedicheremo la puntata del Sasso nello Stagno al corpo volontari antincendi boschivi in particolare a quelli che operano nel nostro territorio nel territorio del Verbano Cusiossola sono qui che operano accanto a noi difendono i nostri boschi ma non si limitano a intervenire in caso di incendio vedremo che cercano anche di prevenire con la manutenzione e con la cura dei nostri boschi dei nostri sentieri diciamo che due verbi potrebbero sintetizzare diciamo la loro mission la loro missione che è prevenire e proteggere cercheremo di conoscerli meglio grazie agli ospiti che sono già qui con noi e che vi presento e che sono Roberto Cotroneo ispettore provinciale IB del VCO e componente dello staff della direzione regionale del corpo IB del Piemonte e uno dei due vice ispettori provinciali Raul Bassi quindi l'appuntamento a fra poco con l'IB con i volontari dell'IB e con il Sasso nello Stagno noi invece andiamo a Darona dove ieri è arrivato Fabio Volo per rappresentare il suo ultimo libro Fabio Volo ha attirato molti fan al punto che ha riempito il pallacongressi Marina e Marcello Salina durante la presentazione del suo decimo e ultimo libro Una gran voglia di vivere a presentarlo è stata la giornalista Maria Paola Arbeia di La Stampa rispondendo alle varie domande l'autore non ha mancato di strappare applausi al pubblico presente il 90% giovani tra i 18 e i 25 anni ma non sono mancati i capelli bianchi di qualche attempato una carica di simpatia che emana ha iniziato come conduttore nel 1996 a Radio Capital poi via via una carriera in continua ascesa Una gran voglia di vivere è un titolo ottimistico e positivo entrambi i protagonisti hanno una gran voglia di vivere dice si tratta di un viaggio cucito addosso a Dalle Marco i protagonisti manifestano che quando sei in crisi di coppia non è conveniente mettersi in viaggio poi ha aggiunto mi piace moltissimo sentire le opinioni dei lettori sui miei libri ma soprattutto cercare di capire chi sono i miei fan ho scoperto che sono giovani ma anche meno giovani siamo in un periodo di analfabetismo del sentimento dopo qualche tempo che sei insieme ad una persona ti viene voglia di ritornare con la tua ex oggi l'obiettivo dice è divertirsi all'esasperazione del godimento poi la sua effazione poi prima della rabbia arriva la frustrazione ora andiamo a Verbagna dove al Teatro Maggiore domani sera l'appuntamento è con il musical della compagnia Arcademia domani sera alle 21 al Teatro Maggiore di Verbagna torna il musical Il Paradiso può attendere lo spettacolo racconta i 25 anni della compagnia Arcademia i momenti più belli da Gris ad Angeli con la pistola una serata dove arte e solidarietà si incontrano l'incasso della serata andrà a sostenere il progetto Camp Edu rivolto a bimbi e ragazzi con problemi autistici non a caso lo spettacolo è organizzato dal CIS del Verbano e dal Kiwanis Club di Verbagna in collaborazione con ANXA il sostegno della fondazione comunitaria del VCO e al patrocinio del comune di Verbagna il campo estivo Edu costituisce un'importante valvola di sfogo per le famiglie che durante il periodo estivo rimangono da soli nella gestione dei loro figli un campo estivo insomma pensato per dare a questi ragazzi un'opportunità ricreativa e di socialità e alle famiglie un servizio di alleggerimento qualche nota sullo spettacolo sul palco si alterneranno 20 artisti volti vecchi e nuovi di Arcademia con loro 15 giovanissimi allievi i biglietti se non acquistati in prevendita a Domenia presso la sede di Arcademia e a Verbagna presso la palestra Sporting si possono acquistare direttamente presso il teatro maggiore costi intero a 18 euro e ridotto under 14 e over 70 a 12 euro Open Week è l'iniziativa presentata dall'istituto Antonio Rosmini a Domodossola e che interesserà la città per due sabati il prossimo e quello dopo Open Week Rosmini dal 16 novembre al 23 novembre un'iniziativa, anzi direi un insieme di iniziative poi vedremo sono quattro con le quali in qualche modo la scuola si apre la città l'idea di una scuola che per certi aspetti sia davvero al servizio del territorio della comunità locale è un'idea che ci piace molto e penso che davvero renda anche in qualche modo i ragazzi partecipi e protagonisti di una corresponsabilità rispetto proprio alla crescita della propria comunità quattro gli eventi in particolare che caratterizzeranno questi due sabati sabato 16 alle 17 e 30 la presentazione di un libro un libro illustrato illustrato da Eleonora Perretta con testi di Stefano Rizzi alla presenza anche della editrice la leggenda di Nuova Vita un mondo che si apre rispetto all'adolescenza affrontando una tematica molto importante invece poi alle 20 e 30 sempre presso appunto la sede di Via Canuto 12 un incontro con un grande giornalista psicologo che è Luigi Ballerini che più o meno tutti conoscono grande scrittore ancora una volta su un tema legato all'educazione la motivazione che penso sia veramente quello che muove muova tutto il mondo e muove noi e i nostri ragazzi vediamo poi invece a sabato 23 dove alle 16 inaugureremo questo in Via Mattarella una mostra una mostra di una giovanissima artista presentata dai nostri ragazzi della Quinta Liceo Scienze Umane per cui coinvolgiamo i ragazzi in questo percorso e poi alle 17 e 30 concluderemo i nostri 4 eventi con Don Giovanni Fasoli grande psicologo anche lui esperto di Cyber Life il tema è social, digital i nostri ragazzi sfida, scuola, famiglia Sapori dell'Alto Piemonte in collaborazione con Ais Verbania continua il viaggio attraverso i principali vitini italiani ed internazionali in preparazione a vino sostantivo femminile evento con le donne che producono vino in programma per il 1 marzo 2020 a Stresa Il Barbera o La Barbera a noi piace chiamarlo al femminile La Barbera perché è tradizione piemontese chiamarlo in questo modo e da sempre i contadini e i vignaioli del Piemonte si riferiscono a questo vitigno con il nome al femminile La fama della Barbera ha avuto il suo apice a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento in quel periodo la Barbera era molto conosciuta molto diffusa e molto consumata purtroppo la fama della Barbera è stata oscurata a metà degli anni Ottanta del secolo scorso con quello che da tutti è conosciuto lo scandalo del vino al metanolo in quel frangente la Barbera purtroppo ha catalizzato su di sé l'immagine che l'opinione pubblica aveva di un vino purtroppo fatto male in quel momento tanti vignaioli di qualità hanno ripensato a questo punto alla Barbera in termini di qualità produttiva e hanno potuto dare nuova vita a questo vino e a questo vitigno tra tutti ricordiamo Giacomo Bologna e il suo famosissimo Bricco dell'Uccellone al naso si possono sentire note di frutta rossa in particolare la ciliegia e il frutto di bosco in bocca ha una discreta persistenza e permette appunto di affrontare diverse tipologie di cibi la Barbera più giovane magari passata solo in acciaio la possiamo abbinare per esempio a un buon piatto di salumi la Barbera invece più strutturata quindi magari con un passaggio in legno in botte grande o anche piccola ha sentori di complessità maggiore anche di tipo speziato la possiamo quindi abbinare con delle paste anche ripiene con delle carni arrosto o bollite con dei formaggi anche un poco stagionati ora siamo allo sport grande gara dell'ossolana Giovanna Selva che ai mondiali di corsa in montagna in Argentina ha chiuso settima la gara è stata vinta dalla compagna di squadra ma per Giovanna Selva le buone notizie non finiscono qui perché a lei va l'oro nella gara a squadre vinto dall'Italia ed ora invece il basket sentiamo Daniele Piovera cade al momento giusto la giornata di riposo per la Pafoni proprio a metà del giro d'andata ideale per un primo bilancio per concedere qualche giorno di stacco ai giocatori che d'agosto ad oggi non hanno mai alzato le piedi dalla tavoletta dell'acceleratore e per programmare nel migliore dei modi le successive sei giornate che chiuderanno la prima parte di campionato una lunga volata per conquistare l'accesso alla Final Elite di Coppa Italia traguardo sempre centrato dalla Fulgor nelle ultime tre stagioni sei giornate per blindare una qualificazione che oggettivamente non dovrebbe sfuggire ad Arrigoni e compagni il calendario vivrà comunque di un paio di snodi cruciali con due scontri diretti di vitale importanza e determinanti per l'accesso alla competizione tricolore che stando a discrezioni sempre più veritiere dovrebbe essere a Forlì città che vive di pallacanestro e che ha due splendide strutture come l'antico e affascinante Villa Romiti ed il nuovo e più avveneristico Palafiera tornando agli scontri diretti saranno quelli di Firenze il prossimo 30 novembre e quello con San Mignato del 5 gennaio al Palabattisti in mezzo alle partite casalinghe con le siciliane Torre Nova sabato prossimo e Costa d'Orlando il 14 dicembre l'altra trasferta di Cecina l'8 dicembre ancora da verificare invece dove si giocherà il derby con la Mammio Leggio del 21 dicembre vista l'attuale in disponibilità del paraeolo intanto Omenia può essere soddisfatta delle otto giornate iniziali sono arrivati infatti sette vittorie ed un solo KO quello con la Jesse Coccia Salvemini ha saputo dare una sua impronta di gioco ed ha trovato le conferme dell'asse play pivot grande balanzoni protagonisti assoluti fino ad oggi il giocatore di Roma tira con il 60% dall'arco il lungo varesino produce quasi 20 punti e 10 rimbalzi per l'allacciata di scarpe sono loro due in questo momento i fari della Paffoni che può e deve ancora crescere molto per centrare l'obiettivo dichiarato a più riprese il ritorno in Serie A2 VCA Azzurra TV per tutti gli aggiornamenti io mi fermo qui grazie per essere stati con noi buon proseguimento